Andiamo, Pichis! Molla la presa, ridammelo! Laila, hai trovato qualcosa per testare il dispositivo di clonazione? Così? Pichis, andiamo! Devo prenderlo un attimo in prestito! Tutto sistemato! Sei pronta con il codice, Shun? Solo un ultimo tasto! Sì! Scusate, ne mancavano altri sedici! Attenzione, studio! Il dispositivo di clonazione è attivo! E dai, Pichis! Ci serve il tuo giocattolo per l'assenza! Mi è venuta un'idea! Qualcuno vuole fare un gioco? Gioco? Ah, 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 preso! Ce l'ho fatta! E vai con l'esperimento! Sì! Il dispositivo di clonazione funziona! No! Non è dispositivo di clonazione! Il triplicatore! Che, insomma, triplica le cose! Questa è una delle più grandi creazioni dello studio! Avremo il triplo dei giochi! Anche il triplo della potenza di calcolo! E il triplo della moda! Il triplo degli spuntini del minifrigo! Quindi ha funzionato! Ci divertiremo un mondo con questi! Sì, scusate, ragazzi! Ecco, Pichis, proprio come ti avevo promesso! E altri due giocattoli per ringraziarti della pazienza! Ah, ci piacciono! Non è vero? Ora triplichiamo altre cose! Chissà cosa succederebbe se mangiassimo delle mele clonate! C'è un solo modo per scoprirlo! Andiamo! Potere mega-polli! Voglio andare prima io! Non credo proprio! L'ho chiamato io, triplicatore! Ah! 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 Potere mini-polli! Vestirci uguali sarà facilissimo! Adesso che possiamo triplicare le cose! Pichis! Ah! Credete che sia colpa del triplicatore? E cos'altro potrebbe essere successo, Laila? Forse Pichis ha ritrovato una sorella gemella cagnolina! E subito dopo hanno scoperto di averne una terza! Laila è una cosa seria! Dobbiamo trovare una soluzione! Non possiamo prenderla come un gioco! Gioco! Pichis, aspetta! Polly, hai detto la parola Gigi o Cioi! Adesso vogliono... Beh... Giocare! Oh! Io provo a recuperarle tutte! Voi restate qui nello studio e trovate un modo per far tornare le tre Pichis in una sola! Potere mega Polly! Venite Pichis! Tutte e tre le Pichis! Tutti i cuccioli di nome Pichis vengano qui! Tre sono decisamente troppe! Venite qui piccole combina guai! Ok! So che si tratta di un'emergenza scientifica, ma siete troppo carine! Le ho prese tutte e tre! Voi avete risolto? Sì! Ci siamo arrivate! Dobbiamo mettere qui sopra le tre Pichis! E tirare questa leva! Ah! Eureka! Tre cloni sono di nuovo uno solo! Qualcuno in caso ha visto le tre Pichis? Ci serviranno altri biscotti! Nove Pichis! Adesso sì che il gioco si fa duro! Oh no! Gioco! Oh no 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 no! È il mio giangelo di pocket! Senza non possiamo tornare grandi! Dovresti cercare di non dire più la parola G-I-O-G-O-Polly! Dovresti cercare di non dire più la parola G-I-O-Po! Grazie a tutti.